gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questa edizione del telegiornale di tele italia calcio morto pietro anastasi fu goleador con juventus internet e con la nazionale aveva 71 anni stroncato da una malattia aveva esordito in serie a con il varese con gli azzurri vinse l'europeo del 1968 e partecipò ai mondiali del 1974 cuneo fiscale accordo governo sindacati le tasse giù per 16 milioni di dipendenti almeno questa è l'idea quindi in busta paga arrivano fino a 1200 euro massimo interessati i redditi tra 8.200 e 40.000 euro lordi l'anno beneficio massimo dai 100 euro al mese chi ha già il bonus di 80 euro quelli di renzi ne incasserà altri 20 ma restano fuori gli incapienti che hanno un reddito così basso da non pagare le imposte caso gregoretti lunedì si vota su salvini decisiva la casellati lira del movimento 5 stelle e del pd non è super partes ma lei ha votato perché si era trovata una situazione di impasse sei voti a favore della data del 20 e sei voti contro non c'era una decisione perché era parità e la casellati per uscire dall'impasse ha dovuto votare anche lei il suo voto è stato decisivo per confermare lunedì 20 la data del della della richiesta appunto che si esaminerà per procedere o no contro matteo salvini poi la parola dovrà passare al senato della repubblica che sarà intorno al 15 di febbraio per il voto definitivo se autora autorizzare i giudici a procedere contro matteo salvini o negare appunto questa e questa iniziativa dei tre giudici del settore reati ministeriali del tribunale di catania in sicilia intanto lei dice casellati dovevo garantire la continuità della riunione garantire il senato quindi approvato nell'ordine del giorno del centro destra la presidente del senato vota con le opposizioni in giunta per il regolamento ed è polemica intanto carola racchette della si watch 3 la cassazione boccia la richiesta il ricorso dei giudici di agrigento per rincarcerare carola racchette e processarla il caso di bibiano l'attivista delle sardine ha soffiato la piazza a matteo salvini quindi braccio di ferro con la lega per il 23 di gennaio quando ci sarà la chiusura della campagna del carroccio in emilia le sardine hanno prenotato per primi la piazza più grande massimo giletti ora che papà non c'è più sarò io a incontrare i clienti in ditta il giornalista quando anni fa lasciai l'azienda per la tv lui pianse un'intervista sul corriere della sera proprio a massimo giletti la simulazione con il germanicum il ipsos ha fatto con i dati forniti da utrend su tutto il mese di dicembre quindi hanno preso tutti i sondaggi di dicembre politici sulle intenzioni di voto hanno fatto una media e hanno poi ipotizzato come sarebbe adesso il parlamento e il senato se si andasse a votare domani mattina ad esempio con il taglio dei parlamentari e con i voti che si vedono la media dei voti dei sondaggi proprio di dicembre e si vede che la camera ridotta 391 deputati il centrodestra avrebbe una maggioranza di 222 parlamentari quindi 55 in più del dei dem con il movimento 5 stelle e con e con matteo renzi che avrebbero 167 parlamentari mentre in senato con un 195 totale dei seggi ci sarebbe il centrodestra che avrebbe un totale di 112 seggi 72 della lega 24 di fratelli d'italia 16 di forza italia dall'altra parte mettendo tutti insieme sia pd che 5 stelle che italia viva avrebbero 81 seggi quindi 31 in più del 31 in più avrebbe il centrodestra del centrosinistra ma centrosinistra si include sempre anche il movimento 5 stelle perché già la distanza è notevole sia il senato che alla camera in questa simulazione ma se pd e 5 stelle dovessero presentarsi separati non avere un'alleanza una coalizione i numeri sarebbero completamente lontanissimi perché tra il centrodestra con 112 deputati al senato di là ci sarebbe il pd con 43 o i 5 stelle con 37 mentre la camera 222 del centrodestra contro 76 del movimento 5 stelle o 86 del pd e questo scenario sarebbe con la nuova legge elettorale quella che c'è adesso però modificata alzando la soglia di sbarramento dal 3 al 5 per cento quello che chiamano adesso il tedeskellum il germanicum o il rosatellum è corretto passiamo ad un'altra notizia omicidio di alessandro polizzi scadono i termini il killer rimesso in libertà uccise mio figlio sei anni fa la cassazione non fissa l'udienza in tempo i familiari della vittima alessandro polizzi sono disperati il racconto vent'anni dalla morte di craxi cantanti artisti e politici ad amamet per l'anniversario 600 persone sono volate in tunisia per rendere omaggio all'ex leader del partito socialista italiano fra loro fedelissimi che non lo avevano mai rinnegato e leghisti pentiti domande risposte via libera all'uso della pistola laser ecco come funziona quando si usa quali sono i limiti di legge in un articolo molto interessante che potete trovare sul corriere della sera quindi il consiglio dei ministri ne ha approvato l'uso l'arma elettrica entra nelle dotazioni di tutte le forze di polizia protesta in francia cambiamo notizia costretti a trattare i pazienti come numeri si dimettono 1100 medici tra di loro ci sono anche 600 primari ci chiedono soltanto di produrre ricoveri e riempire fogli di excel passiamo un'altra notizia il sondaggio difendere l'ambiente fa bene all'economia convinto l'ottantadue per cento degli italiani venerdì sarà presentato il manifesto di assisi di fondazione simbola e sacro convento economia a misura d'uomo contro la crisi climatica passiamo a roma o altra notizia controlli sulle case della del ministero della difesa 1900 inquilini abusivi verifiche sui canoni di affitto in quartieri prestigiosi l'alloggio lasciato a mogli e figli degli ufficiali che erano che si erano trasferiti o che sono andati in pensione acquisiti gli elenchi degli inquilini chi risulta irregolare rischia la denuncia per falso passiamo a un'altra notizia ambito casa mutuo tasso fisso mai così giù attenti però alle clausole su conto e assicurazione vita da due anni ormai i tassi legati ai finanziamenti per l'acquisto della prima casa sono incagliati su livelli storicamente bassi parliamo di energia e bollette luce e gas con il mercato libero risparmi fino a 127 euro quindi mercato libero per le bollette solo dal 2022 ma c'è ancora spazio per tagliare le spese passiamo a un'altra notizia telemarketing stop alle chiamate dai call center su cellulari entro la fine dell'anno nel pre consiglio dei ministri tenutesi il 14 gennaio scorso si è ripreso a parlare della necessità di modificare l'attuale regolamento e permettere agli utenti di bloccare le telefonate commerciali passiamo a un'altra notizia sesto san giovanni accoltellato da un folle nel suo distributore muore dopo cinque anni e sette mesi di coma francesco saponara benzinaio alla shell a giugno 2014 fu accoltellato da davide frigatti poi assolto per vizio totale di mente il giovane arrestato mentre vagava nudo quel giorno uccise anche il titolare di un auto lavaggio allerta per il nuovo virus cinese seconda vittima tre casi in thailandia e giappone il virus isolato su pazienti che avevano visitato one ma non il mercato delle pesce da dove è nata l'epidemia io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare e contestare siamo anche in facebook nella pagina tele italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci